La nuova Renault Espace è dotata di un sistema automatico di climatizzazione principale per i sedili della prima e della seconda fila. In base alla versione è disponibile un sistema di climatizzazione supplementare per la terza fila, con areatori nel rivestimento del pannello laterale posteriore. Il pulsante di comando del sistema è situato dietro alla console centrale. Consente di scegliere tra le modalità automatica e rapida o di variare il flusso dell'aria.